Ciao ragazzi, come vedete qui sta piovendo copiosamente e vogliamo effettuare una prova sul nostro nuovo Motorola Razor per vedere se effettivamente come dice Motorola resiste agli schizzi d'acqua, lo metteremo sotto la pioggia alcuni secondi e vedremo se la cellulosa che ricopre questo telefono effettivamente fa il suo lavoro, vediamo dovrebbe essere un bello pieno di acqua adesso, lasciamolo ancora un po', ok adesso spero proprio che funzioni altrimenti 500 euro buttati, eccolo qui, nonostante sia pieno di acqua di schizzi di pioggia, funziona alla perfezione, naturalmente è consigliabile asciugarlo un po' prima di usarlo ma comunque diciamo che la prova è superata, facciamo ancora un altro po' di pioggia sullo schermo, ok basta così, come potete vedere pieno di pioggia, di acqua è tutto e comunque continua funzionando, ovviamente l'acqua fa attrito sul touch screen quindi è come se la pioggia stesse toccando effettivamente il touch screen e quindi vengono eseguiti i comandi, comunque il Razor continua a funzionare, questo è tutto, effettueremo la video recensione nei prossimi giorni, nel frattempo potete stare tranquilli che anche sotto la pioggia il Razor continua a funzionare, alla prossima!